al primo sì prima che ho fatto anche per questo scelta scattinato anche su computer dai sono il container è andato eccomi no ho sbagliato, ho troppo un breast ah no, lui è bello quelle cose che tutti gli avevano fatto, il 1, il 3, il 6 il 2 l'hai fatto, no? il 2 era bello, mi sembra, dall'ambientazione tipo... dove ce l'è? tipo sabbia, una cosa del genere non so molto eh, caroni maia non c'è qualcuna non c'è nessuna, non c'è nessuna non c'è nessuna non c'è nessuno no, non c'è qua nooo no, vabbè ah, mi cura tutte le hanno che lo scudo eh, ah, ah, ah dai, potevo atterrare almeno su qualcosa sopra, no? adesso stavo fare le scale qua, che palle oh, non sapevo che c'era un tesoro questo logo eh no ma quante roba c'è qua a sto giro siccome fai a fare già le scale, se no non è niente c'è qua oh, sto giro qua ci sono cose buone, forse, sto giro qua 4 blu, pompe verde eh, vedi metro blu, pompe violone eh, vabbè, Tools tu qui, però c'è tre scudi, eh, diah eh no, eh, dammi no la città l'obiettivo il tutto il titolo guadagnino un po' questo è un bel di una mappa scusa il buon edu la dieta ma vado a voler un uomo almeno da me la pompa verde o il popolo se tu guarda una del suddito e di come quello lì io mi dai il corto tutto quello che mi chiamava un po' sul pubblico a tutte cose tu quelle cose rare tutte tu ce l'hai e non lo so creato non c'è Ma dov'è sto pompa verde? Qua? Sopra, 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 sopra. Ah, ecco. Immaginavo che era qua. Eh, ma l'ammunizione là non l'è più io, però. Do c'è di blu, là? Raccami! Aspetta, mia mirina, no! Eh, no. Allora... Oh, devi vedere che sto dentro il container, devi vedere. Eh, c'è un pompa blu lì in mezzo! Eh, perché mi dicevo quello verde, cazzo, c'è quello blu. Eh, fai di giù, no. Eh, no. Oh. Non lo piglio, no. Eh, vuoi. Cazzo fai? Pensa che ce la faccia saltare fino a lì, no! No, e ora come cazzo faccio? Ma non c'è più un cazzo, che è l'importante. No, aspetta, aspetta. Come non c'è un cazzo di importante? Dove c'è qualcosa? No, per pochissimo non ce l'ho fatta saltare! Eh... Fa' un culo! Fa' un culo. 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 Ma non c'è più nulla. E vabbè, se poi mi lagga pure allora addio. no 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 ah c'è più niente 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 ah eh andiamo dove dobbiamo andare qua deposito questo materiale ho sprecato per fare le scale di merda eh no ah 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 cos'è che dici? c'è un progetto ah 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 ma dove ah 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 ma devono dire che ci sarà anche lì il cosa però ah 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 ma non c'è qui ma però c'è la cassa delle munizioni ma che c'è? non sapevo che ma qua hanno preso le cose però ma qua in generale hanno preso le cose qua però eh ma sei tu? cechino blu qua dentro mio ma qui ce l'hanno spaccato tutte che cosa hanno qua eh ti faccio ma perché non hanno preso? eh boh non neanche l'avranno visto coglione ma non c'è che fuori però è fuori cosa? l'hai preso? no ma che cazzo fai? ma qui eh che cazzo stai facendo? vabbè vabbè eh m4 verde mi serve a me vabbè però non fanno mai tessore al centro ma non lo sanno, ma tutti non lo sanno questo punto qua eh la tua condizione ma è che sarà male dai su sei tuuuu corri corri perchè? come perchè? no mi becca no no vaffancula no nooo 100 e 100 perfetto adesso non... questa colpa è tua carina eh siamo distanti con il portale oh ci sono i tuoni guarda fuori dalla barriera ci sono i tuoni eccoli oh stanno qui nella centrale qui eh oh eccola 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 ecco vieni non lo uccido questo non m'ha visto no ma sono i tuoi aiutami oh uno l'ho ucciso uno l'ho ucciso anche mio dio qua eh e muori pezzo di merda lo scardoro aveva sto figlio di una troia pure uno scudo avevano oh non lo piglia ma dove stai? uno l'ho ucciso ma io due l'ho ucciso qua eh dai riuniamoci va oh specie dobbiamo correre c'è roba qui c'è roba qui aspetta aspetta però dai veloce veloce eh piglia tutta c'è un tesoro c'è un tesoro c'è un tesoro c'è un tesoro eh chi te nooo non ci credo cos'è un tesoro questo pure io faccio uno davanti oh lo scardoro c'ho io eh dai 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 nooo no coglione corri ti guardi un'attività eccola c'è uno pure davanti a me no двue stanno no vabbè no che cosa stanno facendo ah corri no si sono costruiti perchè Oh, corri che sta arrivando, eh! Eh, ma si sono costruiti qua i figli di troia davanti a me! Che cazzo stanno facendo? Ah, vedendo, c'è il kit! Oh, sta arrivando, eh! Sì, ma c'è il kit, Dan! Oh, aspettami, aspettami! E qua ci sono due! Un confiere, qua! Oh, io sono messo bene come armi, però, eh! Non mi aspetta, ti dico, aspetta! Mi aspettami, no! Dove c'era, c'è! Dove? L'hai presa? Cosa ti ha dato? RPG! Sè! Ho un kit, dammelo, però! Eh, che ti mi serviva per... Ti serve? Oh, no, no, hai colpi di RPG! Ho RPG d'ora, eh! Eh... Sè, quattro te! Eh... Andiamo? Aspetta che abbiamo il polisciuto, coro, perché... Inchia! Non dipendere bene, eh! Ho io un kit, lo uso, aspetta, aspetta che sto usando il kit, uno! Oh, c'ho! M4 azzurro! Pompa viola e RPG d'ora, eh! Eh, indovina cosa c'ho io, io c'ho lo scardoro! Eh, vabbè, grazie cazzo! Ma lo c'è stato, ah! 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 Aspetta! Infermere in un macella, poi c'è chi non è che qui! Oh! Oh! No, dove? Nessun questo canale, non esserlo, mavera, forse... Non lo so, non lo so veramente, però potrebbero essere, non farti vedere, sono sediti. ecco lì, fermo, fermo aspetta, aspetta, aspetta e io perché non aspetti a me? non è che mi aspetta, no? dov'è? sta correndo, sta correndo, vai veloce dove cazzo vai? non è morto ancora, vuol dire che c'è il suo compagno non so, non so che c'è non so dove, è andato l'ucciso, vaffanculo, perché? eh, lì davanti sta costruendo non so perché costruendo, eh, davanti lì, lì, a 330, davanti là eh, forse c'è qualcuno davanti, io sta costruendo sta sparando qualcun altro davanti, molto probabilmente oh, oh, chi è? ma scatti, mi fanno sbottarci ma dalla barriera, stanno sparando, eccolo, eccolo poi io gli sparo, sto cogliendo ma dov'è? ah, qua qua, non ci penso io ecco, finito oh, aspetta, aspetta dov'è quello che ha là davanti? che io non capisco dove... eh, no, eh, te l'ho detto, 330 aspetta che piglio la roba di questa non c'è, 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 non c'è dove sei ? non ho capito dov'è che l'ha importante, ma ₱ però... dove sei io, non capisco dove sei dovele sei ? noá beh dentro me lo scatto, c'è c'è la scarba bio 2014 dammino almeno no piglia l'iance granalaБ anche se può ma vedi tre colpi ciò però con questo un e te do io i colpi, ne ho 300, vieni dai, dittimi già, te li metto qua e non funziona dai, mi li piglio di nuovo, cazzo andiamo, andiamo, andiamo su dove ho creato la orca puttana eh, stanno qua sopra fai piano, fai piano, fai piano ecco, sapevo dove è andato? oh, ma si è buttato, vedi, eh eccolo, sotto, sotto ma continua a creare il coglione no, mi sta sparando un altro da qualche parte ma che cazzo ma che cazzo ma che cazzo non andare, però, eh, c'è uno davanti, eh, c'è uno davanti, però ma, eccolo, ho visto quel figlio di Troia vedi tu che sparino, sì dove sei? potevi dimmelo che c'era la barriera, però, eh che cazzo è che mi sta sparando cazzo è che cazzo è la barriera, non c'è uno davanti, non c'è uno davanti, non c'è uno davanti che cosa! quasi appieno. Ah, ancora lì quel Koyama. No, che culo, l'ho salvato. L'ho ucciso tutti e due si stavano combattendo. Ah, l'ho ucciso, coglione. Mi pare. Non ti rimancano. Eh, il tre. Eh, però dove sono? Eh, che cazzo ne so. Come tre, due siamo noi. Eh, tre, vedi che so fare i calcoli, eh. Da dietro, devo stare attenti da dietro. No, ma dove state di dire? No, ho capito pochino, insomma. Dov'è? Ma forse, però non sono sicuro. Eh, dobbiamo muoverci, però. Ah, eccoli, eccoli, giù là. Vi andiamo avanti, eh. Dove? Solo dove? Eh. No, ragazzo. Orco Dio. Dove, là, 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 dove. Ho aggiunto il monte qua. Crea, 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 anch'io. Eh, che cazzo è? Quanta roba vanno? Sì. Pai, qua sotto, è qua sotto, sto figlio di Troia. Oh, va bene? Vedi che è qui, è qui, è qui, qua sotto, eh? o mi curi cura mi cura mi cura mi cura mi cadaro attenta quello là sopra ho già ucciso quello sopra eh no dov'è l'altro non so fai curare cazzo io per uccidere questo qua qua dietro mi ha sparato quello da la sopra figlio di troia ma dove minchia è questo adesso sono finito i materiali dove sei? ma che devi fare? eccolo eccolo qua 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 com'è qua? fuori eccolo sotto dove è? sotto qua dove l'ho puntato io ah buono dai è il filo che mi ha spinto è tutto di due colpi ho sparato in inglese fa bene questo è il filo che mi ha spinto è tutto